Gentili telespettatori, buona giornata. Il governo ha un programma, una svolta sui migranti, ma attenzione, non è la svolta adesso fermiamo le partenze o fermiamo gli arrivi, la svolta sulle regole sul dopo che sono arrivati. Quindi sono nuovi criteri di distribuzione e più ricambio nei centri di accoglienza. Quindi il piano del Viminale non è un piano per limitare gli arrivi ma per organizzare il dopo. In Italia il numero dei migranti sbarcati dal 1 gennaio al 18 di agosto con il confronto con gli anni precedenti è questo. Nel 2021, dal 1 gennaio al 18 di agosto sono 35.035. Nel 2022 sono 50.022. Nel 2023 102.973. Quindi sono quest'anno oltre il doppio sull'anno passato e diciamo il triplo sul 2021. Quindi nel 2021 con Conte 35.000 con Draghi 50.000 con Meloni 103.000. E così oggi il punto non è come fermare gli arrivi ma è come organizzare il dopo. Pertanto la novità più incisiva è quella dei trasferimenti di queste persone approdati sulle coste italiane negli ultimi mesi, visto che i comuni si stanno tutti lamentando di quello che degli invii che il governo fa, dato che sono più del doppio rispetto all'anno scorso, viene messo sotto pressione l'intero sistema dell'accoglienza, quella che chiamano accoglienza che in realtà non è propriamente un comitato di benvenuto, non è proprio una vera e propria accoglienza perché le condizioni sembrano più una prigionia che un'accoglienza. Ecco, parliamoci chiaro. Pertanto dopo i primi momenti, dopo il soccorso in mare, si arriva nei centri abitati. L'iter è contenuto in una circolare che il Ministero dell'Interno ha inviato ai prefetti, delegati, peraltro a indire i bandi per reperire nuove strutture d'accoglienza. Le nuove regole per la distribuzione dei migranti sono coordinate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. La Lombardia è in cima alle classifiche della cosiddetta accoglienza dove arrivano il 13% del totale dei migranti, ovvero 16.232.000 dei 128.902 già accolti sul territorio nazionale. Poi al 10% e il 9% abbiamo Emilia-Romagna e Lazio. Quindi avete visto che l'Emilia-Romagna, una delle due regioni rosse, riceve il secondo numero per quantità di migranti. È un criterio della proporzione collegata alla superficie regionale. Si potrebbe avere nelle prossime settimane un aumento dei trasferimenti in regioni con minore densità abitativa come Sardegna, Basilicata, ma al vaglio ce ne sono anche altre, seguite da un alleggerimento della pressione sulle prime regioni. Quindi che cosa succede? Oggi si sta cercando il modo di distribuire queste persone nelle regioni, nelle città, però con dei criteri differenti. Ma capite che quando sono 103.000 in sette mesi, a fine anno saranno 200.000, se non di più. e quindi avremmo raggiunto il record italiano di arrivi. Ecco, 200.000 persone di quest'anno, più quelle dell'anno precedente, più quelle dell'anno precedente ancora. Che fai? Nel senso che l'accoglienza che cos'è? Cosa fanno dopo un mese, dopo due mesi, dopo cinque mesi, persone che non hanno vestiti, non hanno documenti, non hanno casa, macchina, lavoro, istruzione, o se ce l'hanno non è dimostrabile, non sanno la lingua. Che cosa fai? Domandone, eh? Che cosa fai? Che cosa si fa? Cosa fanno i comuni? Visto che alla fine questi migranti vengono mandati a tutti i comuni italiani, dove i comuni italiani dicono, vabbè, io ho visto che non ho un centro di accoglienza, li metto nelle palestre. Palestre che poi non servono più come palestre, ma a parte quello, poi dopo che li hai messi nelle palestre, che fai? Finito lì. Cioè, lo Stato ti dice, tieni, questi migranti vengono da te, e tu che cosa devi fare? Con quali soldi vai avanti? Con i soldi del comune? A fare che cosa? E per quanto tempo? Capite che è tutto, è tutto campato per aria, è tutto senza senso. Ma oggi l'ottica è quella di far calare la pressione sui territori e assicurare un turnover delle presenze nei CAS, centri di accoglienza straordinari. Però il punto è questo, è solo un modo di distribuire, mandali un po' qui, mandali un po' là, quel comune si lamenta, mandaglieni meno, mandali a quel comune che ancora non ne ha ricevuto nessuno. Capite che non è una soluzione questo, fa parte delle toppe che metti a un sistema che fa acqua da tutte le parti. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.